L'Istituto Tecnico del Settore Tecnologico Panella Vallauri di Reggio Calabria comunica che il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha istituito i centri per l'istruzione per adulti con due distinti percorsi di primo e secondo livello. Al primo livello potranno iscriversi gli adulti anche con cittadinanza non italiana che compiute il sedicesimo anno di età non sono in possesso del titolo di studio di istruzione conclusivo del primo ciclo di istruzione, quello di scuola secondaria di primo grado. Al secondo livello, quello che verrà attivato presso l'ITT Panella Vallauri, potranno iscriversi gli adulti anche di cittadinanza non italiana che sono già in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, quello di scuola media. A tale percorso potranno iscriversi anche coloro che, con più del sedicesimo anno di età e in possesso del titolo di licenza media, dimostrano di non poter frequentare un corso di urlo. L'Istituto Panella Vallauri, nell'ambito della propria autonomia, estende le iscrizioni anche agli adulti già in possesso di un diploma che intendono conseguirne un altro di indirizzo diverso. In conseguenza alle precedenti premesse, nell'ottica di dare una risposta positiva all'aumento delle richieste di professionalità specifiche, l'ITT Panella Vallauri ha istituito per l'anno scolastico 2015-2016 corsi serali nei seguenti indirizzi Le iscrizioni, compilate secondo il modulo disponibile sul sito della scuola all'indirizzo web www.itrc.it, dovranno essere consegnate in segreteria preferibilmente entro il 31 maggio 2015 e non oltre il termine ultimo fissato al 15 ottobre 2015. www.itrc.it